Naturalmente non ho passato con lui più di un'ora, ma non credo affatto che Mansfield odi il sesso femminile. Però credo che non ne abbia una grande opinione. Tutta la sua vita sembra una lunga storia d'amore, sai? Significa che ogni tipo di donna va bene? Oh no, non è poi così facile. È sempre Richard Mansfield. E l'altra cosa qual è? Hai dito di avere scoperto dell'altro. Ah, questo è molto più eccitante. Sì, riguarda il nipote della regina ed è personale. Che cosa hai scoperto sul nipote della regina di personale? Beh, un certo reporter mi ha informato che il principe Alberto Vittorio, duca di Clarence Avondale, frequenta un bordello. Anzi, non solo uno. Quale principe non lo fa? Ah, ma a questo piace travestirsi e sembrerebbe che la sua zona preferita sia proprio Whitechapel. L'avevi nella tua lista? Emma, chi ti ha parlato di queste cose? Ben Bites dello Star, assolutamente deliziosi, vero? Spero che tu non vada in gira a ripeterle. Chiacchiere simili sono molto pericolose. Freddi, sai essere molto noioso quando ti ci metti. Prova a cambiare lavoro. Dovresti fare qualcosa di... di eccitante. Ti consiglierei l'esploratore. Che cosa ne dici? Oh, ripasserò più tardi. Mi spiace. Il sergente Godlin, esatto. Cerca sempre di tenere il maestro sulla retta via. Vengo fuori con te, Emma. Ah, meglio di no. I passanti potrebbero vederci e le chiacchiere a volte sono molto pericolose. A proposito, ceno con lui stasera. Ha il caffè Royal? Sta tranquillo, saremo in otto a tavola. Mi salveranno gli altri. Chiudi la porta.